Cari amici di Topis, siamo qui, siamo alla Lux, oggi ci sono anch'io come vi avevo promesso la volta scorsa, siamo per iniziare la nostra seconda lezione insieme al nostro dottente Giacomo Bonaveglio che è qui con noi, eccolo qua, ben trovato caro Giacomo. Ben trovato, grazie di essere qui con noi, oggi quindi continueremo questo nostro percorso di conoscenza e di apprendimento di quella che è la storia della tradizione vedica e della Bhagavad Gita. Allora caro il nostro professor Giacomo Bonaveglio, la volta scorsa ti hai lasciato tutti molto interessati con questa tua introduzione alla tradizione vedica. Se tu vuoi fare un momento di rewind, anche perché magari c'è qualche nostro amico che magari non ho potuto seguire in diretta o comunque possiamo reinquadrare l'argomento, intanto vedo che stanno iniziando ad arrivare i nostri amici di Popis, Ministero della Vita, che ringrazio perché sono tutti così molto attenti, partecipi a questa Università della Conoscenza. Grazie per benvenuti tutti. Giacomo, lascerei a te la parola se vuoi riprendere un po' e rinquadrare questo discorso per poter poi continuare la nostra lezione oggi. Sì, l'altra volta avevamo risposto alla domanda perché approfondire e rivolgersi alla tradizione vedica, perché non ha tante altre tradizioni spirituali e religiose che ci sono nel mondo. Una domanda è che è l'unica tradizione, importante tradizione, che ha una lunga vita, lunghissima vita, fino a 6, 7, 8 millenni. Secondo è proprio la propensione alla spiritualità del subcontinente indiano, che è alla base della tradizione vedica. In India la spiritualità e religiosità sono parte della vita quotidiana, dai commercianti agli industriali. ci sono tanti esempi di forte diffusione di questo senso della spiritualità. Poi ci sono due messaggi estremamente importanti. Uno è l'impersonalità del divino. Abbiamo spiegato cosa vuol dire. Un Dio impersonale è un Dio che non è necessariamente identificato con una persona, con Yahweh della tradizione ebraica, o Dio padre della tradizione cristiana. È un'entità impersonale in cui si può identificare anche un cosiddetto laico. Basta che creda, come abbiamo detto la volta scorsa, che ci sono dei principi base della nostra civiltà, del nostro mondo, che non cambiano nel tempo, nei millenni anche, e nel luogo, da qui all'India, alla Cina, alla America. Questo è un aspetto estremamente importante che allarga fortemente la platea di chi può essere interessato a questo ambito spirituale indiano. Infatti molti lo interpretano, come diremmo dopo, come ateismo. Non è proprio ateismo, poi lo spiegherò dopo, con la differenza tra impersonalità e ateismo. L'altro discorso è la grande inclusività, senza venire meno al principio di coerenza. Cioè il messaggio vedico è fortemente coerente, però è fortemente inclusivo, non esclude, non scomunica, non scarta niente. E' tutto nell'ambito di una compresenza dialogica. E questo lo era già nei tempi antichi. Gli antichi indiani non si sono mai combattuti in guerra. Le antiche tradizioni, ricordiamo che in India nasce non solo la tradizione vedica, il tramanismo, poi l'induismo, ma nasce anche il buddismo, nasce il jainismo, nasce il sikhismo. Tutte queste religioni non si sono mai combattute. Abbiamo importato noi occidentali, includendo nell'Islam, l'Occidente, la tendenza al combattimento fa religione. Infatti ho visto proprio durante una mia visita a Goa, delle bellissime dipinti di lotte che ci sono state sulla costa del Marabar, che è la costa che va più o meno da Bombay, da Mumbai, a Goa nel sud, grossi conflitti fra cristiani, soprattutto portoghesi, e islamici, che erano degli invasori che venivano dal nord dell'India. Quindi queste due caratteristiche rendono estremamente attrattiva la tradizione vedica, ripeto, l'impersonalità e la tendenza all'inclusività, pur in una grande coerenza. tutta la tradizione vedica ha delle coerenze interne molto forti. E poi abbiamo parlato della Bhagavad Gita, che è una sintesi, non è l'unico libro come vedremo adesso, ma è una sintesi della base delle credenze, dell'insieme della spiritualità vedica. Adesso... Quello che... Giacomo, Giacomo, mi senti? Sì, sì, bene. C'era un aspetto molto interessante che tu hai sottolineato, c'era un aspetto molto interessante che tu hai sottolineato la volta scorsa, che era la datazione dei Vedas. Sì. La datazione, il fatto che siano molto più antichi. E poi abbiamo visto come sono arrivati in Occidente. Sì, l'altra volta abbiamo parlato anche del fatto che la scoperta dei Vedas, come li conosciamo adesso, in Occidente arriva solo nell'Ottocento. e si è scoperto, in quell'occasione, anche la cosiddetta civiltà indoeuropea, cioè il collegamento fra il mondo indiano, il mondo sul continente indiano e il mondo europeo, le comunanze linguistiche e ovviamente anche culturali. fra cui anche la teoria che non è accettata da tutti ma sembra abbastanza consolidata, che noi europei, della civiltà europea, deriviamo da popoli provenienti dal bacino dell'Indo, dalla cosiddetta civiltà dell'Indo, del fiume Indo, nel nord del subcontinente indiano, che attualmente fa parte del Pakistan. Quanti millenni sono andati? Scusa? Dicevo, Giacomo, quanti millenni precedenti alla nascita di Cristo, quindi anche della nostra cultura religiosa, dobbiamo tornare indietro per trovare la fantastica. La datazione è molto difficile perché non ci sono tracce storiche fino a queste antiche date, ma in tradizione orale il mondo vedico si data fino a 5, 6, 7 millenni fa, quindi 4, 5, 6 mila anni prima di Cristo. Ovviamente lo scritto è più vicino a noi circa a quando la scrittura è stata inventata. Prima questi testi che vedremo adesso erano tramandati per via orale, come nel resto dell'antichità anche occidentale. La volta scorsa tu hai spiegato come sia arrivata in Europa questa cultura dei veda, ma come questa tradizione è arrivata qua da noi, ma quali sono i testi di riferimento sia in ambito filosofico, psicologico, spirituale, che riguardano appunto la tradizione vedica? Allora, il nome vedico deriva dai veda vere e proprie. Adesso se andiamo alla prima figura, pagina 4, così lo proiettiamo e lo rendiamo visibile, ci sono i libri di base che appunto sono i libri più antichi, quelli appunto che datano fino a 6 millenni, 6 oltre millenni fa in tradizione orale, sono i quattro veda. Possiamo mettere la slide? Adesso arriviamo. Sì, sono i quattro veda. Questi veda si chiamano... Sì, sì. Ecco, vediamo se riusciamo a portarla su, così la lasciamo a schermo intero. Allora, sono quattro... Così tu la puoi spiegare meglio. Ok. Sono quattro, se si può espandere... Ecco, perfetto. Sono... Ecco, questa è la pagina... Se andiamo alla pagina 4, è la quarta pagina, questa è la pagina 1. Allora, sono quattro veda come dicevo di base, si chiamano rig, yajur, sama e atarva veda. I veda si distinguono in tre parti, la prima parte è la compilazione di mantra, i mantra sono degli inni ed è chiamata il mantra bhaga. Poi c'è il brahmana bhaga che, come nella tradizione cristiana, è legata alla ritualistica. Ecco, bisognerebbe spostarci alla pagina 4. Allora, possiamo andare avanti, la pagina 4. La terza parte si chiama la ragnaca, che è il vero testo che parla di questa spiritualità antica. Ecco, perfetto. Questi consistono in dialoghi fra i maestri vedici e i discepoli. Già, questo dà un messaggio significativo. Cioè, qui non c'è un Dio che è detto delle cose, è un suddito che si chiama Mosè o che si chiami Abele, che si chiami chiunque, che accetta supinamente le regole. C'è un maestro che parla e ci sono dei discepoli che ascoltano, pongono domande e dialogano con il maestro. Quindi già questo è un esempio della cosiddetta tradizione dialogica del mondo vedico. Ci sono dei dialoghi continui, lo vedremo fino a... insomma, in tutta la tradizione, lo vediamo nella Bhagavad Gita, che è il dialogo tra Krishna, che rappresenta il divino, e Arjuna, che rappresenta l'umano, che ascolta, delle volte rifiuta anche, ma dialoga con il maestro, fa delle domande e contesta anche delle volte. Ed è esattamente il caso dell'Upanishad. Tra l'altro, Upanishad, per chi forse è interessato, vuol dire sedersi vicino. Quindi anche questo, anche nel nome, c'è una radice di profondo dialogo. E la domanda che volevo farti, che cosa vuol dire? Perché noi sovente troviamo Upanishad, e quindi chiedevo se potevi spiegare il significato, e poi dopo ne parleremo di come sono nati questi libri. Ti lascio andare, ti lascio spazio. Sì. Allora, come dicevo, Upanishad vuol dire sedersi vicino, perché, e lo vedremo in figure successive, si vede il maestro, che è un po' più alto, ma non su un trono, come capita nella nostra tradizione occidentale, che è un po' più in alto, circondato molto da vicino ai suoi allievi. che, ripeto, dialogano con lui, gli fanno delle domande, ma delle volte lo contestano sempre amichevolmente e amorevolmente, ma gli danno un'altra visuale. E il, nella tradizione vedica, il maestro ha l'obbligo di rispondere a domande fatte in buona fede, non provocazioni ovviamente, ma raramente assistiamo, ovviamente, delle provocazioni. Ma quando l'allievo ha una domanda che esce dal suo intimo, il maestro è obbligato a rispondere. Questo fa parte del rapporto degli obblighi, del rapporto maestro-discepolo. Cioè, il maestro ha degli obblighi, ma, scusate, il discepolo ha degli obblighi, ma anche il maestro ha l'obbligo di rispondere, quando c'è una domanda fatta in buona fede. Allora, andiamo avanti. Ci sono, di questi testi vedici originari, cioè risalenti a 4 o 6 mila anni fa in tradizione orale, ci sono anche gli Upaveda e i Vedanga. Dei quattro Upaveda, qualcuno di voi riconoscerà un termine conosciuto, Ayurveda. Ayurveda non è niente, Ayur vuol dire il corpo, è il Veda del corpo, o il Veda dell'essere più che del corpo, traducendo bene Ayur. È la scienza della medicina, in altre parole. L'Ayurveda arriva fino a noi, teniamo conto che in India esistono più o meno altrettanti medici di stampo occidentale e medici di formazione ayurvedica. e molte volte, io ne ho incontrati tanti, adesso ci sono anche in occidente, ci sono medici che hanno ambedue le formazioni, sia l'Ayurveda che la medicina occidentale, che per l'Ayurveda non è assolutamente in contraddizione. tenete conto che probabilmente da ricerche che abbiamo fatto, anche alcune parti della scienza medica cinese sono derivate dalla conoscenza ayurvedica, come l'agopuntura. L'agopuntura è più antica, è probabile, qui non abbiamo una sicurezza assoluta, ma è probabile che derivi dall'Ayurveda, proprio per l'antichità di questa scienza. ma non c'è solo l'Ayurveda, c'è anche il Janurveda, che è la scienza militare, il Gandharvaveda, la scienza della musica, e la Tartaveda, che è la scienza dell'economia. Quindi tutte queste sono collegate a queste scritture originarie. Possiamo passare alla prossima slide, volevo leggerti, intanto ringrazio ai nostri amici che sono collegati, che ci hanno augurato buongiorno, e stanno partecipando alla sua lezione. C'è una nostra amica che scrive, Maria Teresa, Maria Teresa Russo dice mi sembra un rapporto nella norma, maestro allievo, però poi aggiunge Gesù non è sopra, ma è vicino a noi, non si sente superore all'allievo. Mi pareva un commento interessante? Ma qui non vuole essere una contrapposizione. Dobbiamo anche fra l'altro distinguere il cristianesimo, come si è esplicato nell'epoca, dopo la morte di Cristo, e le attitudini di Cristo. Se guardiamo in qualunque altro atteggiamento, e nello sviluppo del cristianesimo, uno delle basi sono i dogma. Ecco, nel dogma non c'è nessuna domanda permissibile, anzi, chi fa domande è sospetto di eresia, è sospetto di violazione delle norme, e quindi è anche condannabile a morte. Per cui è molto diverso, mentre la tradizione, vedi, è nata dialogica, è continua dialogica tutt'ora. Andiamo alla pagina. Allora, adesso portiamo su questa slide. Sì. Allora, seconda parte, che fanno parte dei testi vedici originali, quindi parliamo di testi che datono a molti millenni fa, fino a sei millenni fa, sono i vedanga, qui somigliano a alcuni libri della tradizione medievale, e anche greco-latina, i vedanga, cosiddetti, che sono fatti di fonetica, scixa, grammatica, via carama, prosodia, chandas, etimologia, astronomia e ritualità. Rituali. E qui non c'è niente di particolarmente importante da commentare, fa parte della tradizione. Qui ho messo un pensiero di Schopenhauer, che ho trovato molto bello. In Occidente, tra i filosofi famosi dell'Ottocento, quelli che hanno scoperto e approfondito di più la tradizione vedica, sono Schopenhauer e Nietzsche. E Schopenhauer dice, il fatto è che il Veda, che i Veda sono il più prezioso scrigno di tesori della conoscenza umana nel mondo. Contengono tutto ciò che l'uomo può concepire e anche riferimenti a ciò che va oltre l'umano. Quindi, è una bellissima specificazione di ciò che è il pensiero vedico. Una caratteristica del pensiero vedico che si contrappone in questo caso si può dire a quello occidentale che non c'è si contrappose si differenzia meglio detto che non c'è appunto una contrapposizione fra scienza e filosofia e soprattutto teologia. Cioè, la conoscenza del divino mi porta anche alla scienza e la scienza è molto approfondita per dire nell'Ayurveda è vero che non seguivano i protocolli ovviamente scientifici ricordiamo che l'Ayurveda è iniziata da vari millenni prima di Cristo forse fino a sei millenni fa l'Ayurveda ha una capacità di selezionare le varie cure attraverso un metodo chiamiamolo paracentifico in cui si sperimentava le varie cure i vari trattamenti su una base già molto larga si stima che già all'epoca dell'arrivo di Alessandro in India cioè del 300 avanti Cristo la popolazione indiana fosse di 150 milioni di persone quindi era una vasta base di sperimentazione su cui è cresciuta la fase scientifica comunque in conclusione scienza e teologia non sono mai in contraposizione andiamo alla prossima slide e parliamo di dell'Eopanishad quello che volevo chiederti Giacomo mi scusi Giacomo mi senti volevo chiederti adesso del tuo approfondimento sulla Ayurveda la Ayurveda è l'Occidente ecco secondo te sei riusciti in qualche modo a trasferire anche in Occidente quelli che sono i tre di posti della Ayurveda oppure è solo come dire una moda qualcuno lo scopre come beneficio per un massaggio insomma Ayurveda non è solo questo o per un'alimentazione allora io suggerirei se sei d'accordo di fare una serie di lezioni sull'Ayurveda perché merita proprio io ho avuto tre veri e propri miracoli dall'Ayurveda cioè di problemi che non sono riusciti a curare con qui in Occidente con la medicina occidentale e che mi sono stati facilmente curati dal mondo ayurvedico con alcune precisazioni l'Ayurveda la medicina ayurvedica ha raramente anzi io non ho mai incontrato delle controindicazioni mentre tutte le medicine occidentali non che che sono soprattutto di provenienza chimica hanno delle forti controindicazioni infatti per dire adesso i vaccini che si stanno sperimentando contro il coronavirus vanno sperimentati soprattutto sotto l'aspetto di effetti collaterali ecco questi effetti collaterali non esistono nell'Ayurveda ed è una tradizione estremamente interessante tanto che come dicevo prima c'è altrettanto ricorso all'Ayurveda in India come della medicina occidentale è avuto proprio tre contro però sarebbe troppo lungo andare oltre c'è un prevedere raccogliere il tuo suggerimento e pensare anche di prevedere se c'è l'interesse possiamo senz'altro approfondirlo ci sono molti casi interessanti come dicevo prima addirittura si può immaginare che l'agopultura eredica è precedente a quella cinese e anche con dei vantaggi rispetto a quella cinese ma a parte l'agopultura che non è la base della della medicina eredica tutta la panoplia di capacità di cura è derivato da molti millenni di sperimentazioni io ho fatto dei conti molto semplici considerando 150 milioni di indiani il numero di patologie e queste medicine prima di arrivare a noi nell'anno 2020 o precedenti ha avuto migliaia decine di migliaia tra loro centinaia di migliaia di sperimentazioni valide presso la popolazione indiana quindi una medicina perché non ha avuto discontinuità naturalmente la medicina medioevale che aveva un po' perso la via sperimentale è stata abbandonata a favore della medicina moderna giustamente la medicina ayurvedica ayurvedica è sempre continuata a svilupparsi nel corso dei millenni dei secoli ecco è una nostra amica sempre la maria tereta ci scrive perché la medicina ufficiale cura il sintomo e non arrivano da nessuna parte quindi si dice in fondo la differenza tra la ayurveda e la medicina allopatica si sono presupposti differenti insomma si sono presupposti differenti io non li metterei in contrapposizione per me non lo sono stati in questi tre casi di cura della mia salute sono serviti di supplemento di complemento di aiuto quando la medicina occidentale non è riuscito a risolvere il problema la medicina occidentale va benissimo però la conoscenza dei benefici del mondo ayurvedico è estremamente importante ha delle controindicazioni che poi spiegherò perché bisogna andare prima nel profondo per capire accogliamo la tua proposta e ci organizziamo ci strutturiamo e sentiamo poi anche con i nostri amici di focus il loro interesse e la conferma di quello che può essere il loro interesse andiamo avanti allora con il nostro programma l'Upanicad eravamo arrivati a descrivere i Veda i Vedanga gli Upa Veda e adesso parliamo delle Upanicad che sono in buona parte il contenuto nei Veda stessi soprattutto nella Tarva Veda il pensiero base è il principio mistico trascendente che sottostà alle diversità dell'universo che si chiama Brahman e Atman non abbiamo parlato di questi due termini che vengono accostati Brahman è il nome del Dio universale ripeto che può essere personale per alcuni chi crede nel nel percorso personale che è quello delle religioni occidentali l'Atman invece io lo chiamo quella scintilla di vino utilizzando un termine che usa nel bellissimo che usa Friedrich von Schiller nell'inno della gioia cioè la scintilla divina che è dentro di noi cioè noi abbiamo Dio dentro di noi e si chiama Atman o Atman e questo è il messaggio di base di tutte le Upanishad le Upanishad sono il libro di base che sottende a tutto il pensiero filosofico vedico e come è scritto qui non esclude neanche l'ateismo allora qual è la differenza tra ateismo e impersonalità io penso che questo sia un discorso importante ateismo è quando diciamo che non c'è Dio allora anche qui possiamo distinguere tra non c'è nessun principio divino cioè tutto come credono i materialisti e tutto deriva dalla materia e tutto si esaurisce dalla materia non c'è alcun principio divino questo è l'ateismo più estremo ma in genere l'ateismo è quello che non crede in un principio divino raffigurato in una persona che dà degli ordini che dà dei comandamenti che dà delle disposizioni che dà dei castighi ecco questa forma di ateismo è contemplata nella tradizione vedica è meglio chiamarla in personalità il cui noi crediamo in principi unici divini originanti che non cambiano ripeto come ho detto prima nel tempo e nel luogo e la loro e l'effetto che ha su di noi ora se noi guardiamo o quello che chiamiamo un normale laico occidentale un laico occidentale che ha una fiducia nel mondo che non è un materialista puro crede in alcuni principi di base ecco quello è già fa parte della tradizione vedica dell'impersonalismo se volete chiamarlo ateismo chiamatelo pure ateismo penso sia impropria è meglio chiamarlo in personalismo adesso abbiamo finito con parlare dell'eupanishad in parte iniziale andiamo a fondo sono 108 se passiamo alla prossima slide sono 108 le upanishad che ancora esistenti non entriamo in tutti i dettagli ecco qui c'è una raffigurazione molto bella che ho trovato del tipico organizzazione originazione come è scritto qui dell'eupanishad c'è il maestro che è anche circondato dall'alone sacro e i suoi allievi come si vede è una piccola piattaforma che lo rende più visibile agli allievi però è molto vicino agli allievi che dialogano con lui in continuazione infatti molte le upanishad più significative iniziano con domande degli allievi se qualcuno di voi conosce i più importanti sono Chandoghia Aitarea e Brina Randi sono nomi molto lunghi quindi non sono conosciuti da tutti il tema centrale come ho detto prima è la sola realtà esistente del Brahman Atman e l'importanza di riferirsi a questa l'età dell'eupanishad si considera tradizionalmente terminata verso il 1500 a.C. e qui abbiamo il nascere di altra letteratura vedica lo vediamo nelle pagine successive i più famosi li cito solo di passaggio poi chi vuole approfondire sono i cosiddetti Blamasutra Vedantasutra che sono una serie di aforismi o di shloka che compongono un testo con affermazioni brevi il nome shloka è un tentativo dei vedici di creare una realtà che durasse nei millenni cioè loro scrivevano qualcosa che proveneva da millenni prima ma volevano scrivere in modo tale che durasse nei millenni quindi lo shloka è un un una volontà di rendere meno attuale più universale e eterno possibile il messaggio togliendo tutti i fatti di attualità infatti in italiano sono tra l'ottica il termine aforismo ma l'aforismo normalmente nasce a sé mentre i shloka sono collegati ai shloka precedenti e ai shloka seguenti poi ci sono i dharma sutra e il più famoso sono il purana ma il testo più importante tra questi testi vari seguenti ai veda originale ai veda lupano originale sono i yoga sutra di Patanjali che è il testo base dello yoga yoga sutra si pensa che siano stati scritti fra il 700 e il 1000 avanti cristo forse anche aggiornati in epoche successive sono il testo fondamentale dello yoga dei 192 sutra questi aforismi questi versetti brevi che compongono il yoga sutra solo tre parlano del corpo quindi quando parliamo di yoga dobbiamo sapere e noi anzi e noi in occidente lo associamo al corpo alle posizioni che per chi pratica lo yoga fisico si chiamano asanas alle posizioni danno ovviamente enorme sollievo enorme beneficio per chi lo pratica non sto dicendo che non lo sia ma è solo una piccola parte di quello che è la teoria sulla esposta nel yoga sutra di Patanjali Patanjali è un vero quello che io chiamo ingegnere della spiritualità è un tecnico un scienziato della spiritualità ogni sequenza che lui compone è un sillogismo che porta delle conclusioni sulla base di alcune premesse allora arriviamo adesso ai due poemi fondamentali dell'induismo che si chiamano Itihasa che troviamo nella pagina sequente e che ci sono familiari molti di voi lo conosceranno come Ramayana e Mahabharata iniziamo nel Mahabharata e compreso anche la Bhagavita poi lo vediamo dopo iniziamo da Ramayana o Ramayana come lo dicono come lo chiamano in India Ramayana è la storia del nobile Rama e della regina Sita quest'ultima rapita da re demone Ravara è la storia della vittoria del bene e del male anche Mahabharata parla di quello è un poema estremamente lungo sono 20.000 distici completi originalmente in sanscrito anche queste vediamo sono composte di quattro parti uno parla del Dharma il termine Dharma sarà noto a molti qui in questo senso qui è il dovere morale Dharma è qualche volta tradotto con termine destino Arta il retto possesso materiale non c'è un rifiuto del possesso materiale o della ricchezza però c'è il senso del retto possesso materiale ciò che è giusto avere pur in una aspirazione superiore il Kama l'amore e il Moksha è l'ultimo punto che porta all'autoriluzione quindi queste sono le quattro componenti che sono incluse nel Ramayana come obiettivi di vita adesso arriviamo al Mahabharata il Mahabharata è ancora più lungo del Ramayana posso interromperti Giacomo volevo prima appunto tu facevi riferimento al Dharma come un po' come destino ecco per gli occidentali invece passa molto il termine Karma sì Karma vuol dire azione è il destino sotto le nostre mani allora per chi si sia avvicinato alle denominazioni indiane ed è abbastanza logico vede vede che soprattutto dal punto di vista spirituale i termini sanscriti hanno delle accezioni molto varie molto vaste rispetto a quelle occidentali normalmente comunque Karma è proprio l'azione quella parte del destino che è sotto il nostro controllo il Dharma invece con l'esplosamento del libero arbitrio quindi vuoi dire nel Karma viene coinvolto molto il nostro libero arbitrio assolutamente sì assolutamente il libero arbitrio non è messo mai in discussione non c'è nessuna predestinazione ci sono dei limiti in cui operare uno è il Dharma universale cioè se infatti esiste un termine molto bello che si chiama Svadharma simile all'italiano che è il suo Dharma cioè ciò che è dentro di noi se questo Dharma non coincide con il Dharma universale con il destino del mondo cioè se cerchiamo di remare contro il mondo e fare le cose che non ci sono proprie ecco allora sì che ci ci facciamo nel male per usare un termine dire che è molto contemporanea questa riflessione esatto quindi è molto importante infatti ho tenuto un seminario tempo fa che parlava proprio della sua Dharma determinare il proprio Dharma chi riesce a capire il proprio Dharma riesce a vivere cioè sapere ciò che deve fare ciò che deve fare non per obblighi imposti dall'esterno ma per fatti legati alla nostra natura alle nostre caratteristiche ciò che è il nostro obbligo verso la società chi lo capisce sa assolverlo bene vivrà una vita molto più felice e piena di successi rispetto a chi lo sa grazie ti lascio andare avanti ecco stavo illustrando il Mahabharata il Mahabharata è stato anche oggetto di un film che è stato mi sembra 20-30 anni fa da Peter Brooks un film molto lungo che parlava della saga del Mahabharata cos'è il Mahabharata è la storia ecco bisogna andare alla pagina successiva Anna sì è la storia prima di tutto è una cosa il Mahabharata è enormemente grande è il libro più grande del mondo conosciuto sono anzi sono 18 libri con 110 mila distici 200 mila linee e 15 volte la dimensione della Bibbia e 9 volte quella delle lie e dell'Odissiea messi insieme ed è la storia della di una guerra fra due fazioni rivali di una famiglia regnante che si chiamano i Kaurava e i Pandava e racconta sono centinaia di storie di migliaia di personaggi centinaia e migliaia di personaggi che si intrecciano in mille maniere ci sono tante storie mentre noi abbiamo le favole di Usopo si raccontano molte delle favole del Mahabharata anche del Ramayana ai bambini sono tante che sono molto semplici in modo da essere spiegati ai bambini ecco la Bagratita è un racconto che si trova proprio in mezzo al Mahabharata in mezzo a questo enorme libro proprio nel bel mezzo si colloca la Bagratita la Bagratita vuol dire che è quello di cui parliamo è il testo perché prima di tutto bisogna chiedersi perché è il testo più conosciuto sia dagli indiani sia quello più apprezzato dagli occidentali vogliamo andare alla pagina successiva per favore anzi andiamo alla pagina ancora successiva ancora quella dopo ancora quella dopo poi torniamo sulle pagine precedenti allora fra l'altro si scrive Gita per la ancora quella dopo grazie si scrive Gita non ho cambiato la grafia in italiano noi rispetto all'inglese abbiamo la G I molle mentre in inglese è dura quindi si pronuncia Gita comunque la pronuncia in sanscrito è Gita è anche una Gita volendo ecco quella pagina lì benissimo allora e deriva si rifà alle Upanishad la domanda quello che facevo prima è perché viene considerato sia dagli indiani sia dagli occidentali come il testo base perché è un testo è un poema sacro infatti nell'ambito del Mahabharata che è anche un poema sacro ha degli aspetti poetici ma dà delle insegnamenti di vita vissuta molto profondi la Gita la Bhagavad Gita o Gita come molti la chiamano è composta da 18 capitoli ci sono 700 di questi aforismi o Shloka strofe aforismi o Shloka che trattano di diverse forme di yoga di filosofia di esempi di vita e si svolge su un campo di battaglia in questo campo di battaglia si innesca un dialogo che è alla base della Bhagavad Gita fra Krishna che rappresenta il Dio il principio divino e Arjuna che rappresenta è un re guerriero che deve combattere questa battaglia che rappresenta tutta la